La puntata di apre con l'ingresso di un nuovo talento nel ballo individuato durante le feste da Alessandra Celentana. L'aspirante allievo, Vincenzo, si misura con i ballerini e nell'ultima sfida con Arianna e quest'ultima, con grande sorpresa del pubblico, a dover lasciare la scuola lo dico subito, scelgo Vincenzo. Virgola è la perfezione assoluta dice la giudice Natalia Titova.A giudicare le prove una commissione esterna formata da Kledi Cadio, Natalia Titova e Froz. Anche nella categoria canto c'è un nuovo talento, Alves, che nella sfida con Giacomo vince e conquista un banco.Tra gli sconfitti va in sfida per il ballo anche Mimmi, che si confronta con Raffaele il giudice esterno Kledi. Il verdetto è inequivocabile Raffaele a questa marcia in più che non posso non darti il posto nella scuola. Mimmi è eliminata.Prima sfida a squadre la puntata prosegue con la consueta sfida a squadre tra Sparta e Atene. A causa di un provvedimento disciplinare voluto dalla Celentano nei confronti di Marco, la squadra di Atene partirebbe da un meno due.La produzione, però, ritiene eccessiva la punizione e quindi si torna 0-0. Alessandra avrà comunque la possibilità di punire il ballerino. Nella prima prova vince Sparta con Michael che esegue un passo a 2.La seconda prova riguarda il canto. Atene schiera Alessandro con cambiare di Alex Baroni, Sparta Alberto con Caruso. Vince la prova Alberto e Sparta passa a 2-0.Instagram 1 di 13 ufficio stampa 3 di 13 ufficio stampa 4 di 13 seconda sfida a squadre.La sfida si apre con Jeffeo Sparta con Alla mia età di Tiziano Ferro, che conquista i complimenti da Stash. L'allievo ci tiene a far presente che chi utilizza l'autotune, come fa lui, non è perché non sa cantare. Atene schiera Mameli e la ci vogliamo bene. Un punto per lui 1-0 per Atene. Seconda prova di ballo, con Sparta che presenta Mowgli, e Atene che si gioca il nuovo arrivato Raphael. Grazie a lui, la squadra va in vantaggio 2-0. È la volta del canto con Daniel per Atene. Con l'inedito sembrano le tre e Alberto con una furtiva lacrima di Pavarotti per Sparta. Il punto va ad Alberto. Atene 2, Sparta 1. Seconda prova di canto, con il guetto di Alessandro e Giordana Atene sulle note di 6-something di Justin Timberlake e Chris Stapleton contro Alvis Sparta che porta un inedito e regala alla sua squadra il 2-2.Vista la parità Maria fa scegliere direttamente alle due squadre chi schierare nella quinta e decisiva prova.La seconda sfida a squadre sarà decisa dalla prova di canto. Da un lato Gefeo-Sparta, dall'altro il duetto di Mameli e Daniel Atene.Il punto va a Gefeo e la vittoria va ancora una volta a Sparta.